biere la città di gas e l'utile città di gas e l'utile dell'esercizio questo weekend Tai Dasmond solleva un altro campeonato nazionale nazionale con x-ray, per paparegas. Miugen MTC2, front-wheel drive, 1-10th scale touring, un kit completato con accessori e opzioni. Nice, insider photo, associated RIDI, electronics, and touring machine. Buy as works, titanium turnbuckles, 1-8th scale, 1-10th scale. Mm-hmm.